Ciao, ho preso il nuovo mini album di Sehun in entrambe le versioni, iniziamo da questa che è la che io con i nomi sono un po' più negata. Quanti sono delle scritte che sono le... No, niente, una scritta che non si lancia, finissima. No. 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 E' patatino I suoi photobook sono sempre stupendenti Ok, qui Andiamo dopo Ok, qui Qui abbiamo le lyrics Oh, l'album lo devo ancora ascoltare Però la canzone, la title track mi piace un sacco Oh, qui c'è città che è giallino Perché non entri più adesso? Ok, qui abbiamo Mi serve una pagina bianca O vagamente bianca Ok Cioè non so bene cosa ci sono Cosa ci fai con questo Foglio Non l'ho ben capito Ok, qui abbiamo una cartolina Ella Un pezzo Della lyrics Mi sa di questa Mi metti a fuoco Sì Ok, beccella Photo card Sempre fatta in stile Polaroid Oh, che patatino Sì Questa era la Sì Non vuoi cadere però Ok L'altra versione Che ti dico così a plasso Che è tutta rosa Sì Sì Qui c'è il mio pigiama E non c'entra niente Ah, ecco Qua si legge meglio la scritta Ok Che è identica anche di qua E il sotto è Che bella sta foto Ok 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 Grazie. Grazie. Ok. Wow. Eh, c'è anche questi, vediamo dopo. Spero se cadete, no, state lì. Oddio, questa sembra una bandiera finlandese, solo che invece di essere bianca è azzurra. È blu? È blu? Sì, è blu. O è azzurra? No, è... vabbè, quel che è. È rosa, è blu. O è un viola ascolto? No, è blu. È blu. Eh. Cosa sembra questa bandiera del Giappone? Anche questo photobook è stupendo. Ok, qua abbiamo i testi, i cd che ha i dettagli rosa. Vedete dentro? E qui abbiamo questa. Poi diamo la cartolina. Ok, qua la canzone questa. Questa è verifica... E poi fare finire la foto. Questa è verifica. Tutti. ... ... ... ... ...